Ministro Spadafora, Presidente Malagò, Presidente Pancali, buongiorno a tutti e rivolgo un particolare saluto non solo a tutte le autorità presenti ma in particolar modo agli atleti e a tutti gli appassionati e gli sportivi che ci stanno in questo momento seguendo anche in tv da casa e con enorme piacere che oggi siamo qui per celebrare lo sport italiano che nel 2019 ha vissuto un anno particolarmente esaltante anche ricco di successi e non mi riferisco solo a livello sportivo agonistico dove i successi sono stati tanti ma mi riferisco anche all'assegnazione di eventi prestigiosi che come sono stati ricordati anche il Presidente Malagò avremo l'opportunità, l'onore di organizzare insieme nei prossimi anni. Il Presidente Malagò ha già ricordato un momento particolarmente emozionante. 24 giugno scorso eravamo insieme a Losanna quel giorno e il CIO all'esito di una cerimonia particolarmente emozionante assegnò all'Italia, alle città di Cortina, alla città di Milano l'organizzazione delle Olimpiadi, Paralimpiadi Invernali del 2026. C'erano, vedo qui davanti i sindaci Sala, Ghedina, i governatori Fontana, Zaia. Saranno premiati anche loro, mi risulta tra poco. Ebbene, posso dire che è stato sicuramente uno dei momenti più intensi che ho vissuto da Presidente del Consiglio. Pensate un po' allo sport che potere ha. ed è stato uno dei momenti in cui mi sono sentito anche particolarmente orgoglioso di rappresentare il nostro straordinario Paese. Credo sia questo un motivo di orgoglio, di soddisfazione per tutti gli italiani. È chiaro che questi risultati non si conseguono per caso, non cascano così dal cielo. Ci sono mesi, anni di duro e intenso lavoro, di grande passione dietro, che riguardano e coinvolgono tutto il movimento sportivo. Il CONI, le istituzioni, il Governo nazionale, i governi locali, la classe politica, tutto il movimento sportivo. Ecco, è un risultato che ci coinvolge tutti, ci premia tutti. E questa è sicuramente stata una delle, almeno tra le recenti, tra le più belle pagine che ha scritto il sistema Italia, come spesso io chiamo la squadra Italia, nel senso che il gioco di squadra, l'unità di intenti, la chiarezza anche degli obiettivi condivisi, il fatto di riuscire a lavorare tutti nella medesima direzione, ci ha consentito di ottenere un grande risultato. E lo sport è fattore di inclusione, è fattore di coesione. Lo sperimentiamo sempre, anche in occasione di particolari eventi sportivi, perché quando io vedo sventolare le bandiere del tricolore, ahimè, lo dico perché mi piacerebbe vederle sventolare molto più spesso, ma è sicuro che nelle manifestazioni sportive più importanti noi vediamo questo simbolo della nostra patria, della nostra nazione. E lo sport quindi esprime questa forza magica di unirci tutti, dai nonni ai nipoti, da nord a sud. E quando ragiono di poi i fattori di inclusione, in particolar modo il Presidente Bancalli giustamente le ricordava, poi con le persone con disabilità diventa veramente un grande fattore di inclusione sociale. Quest'anno l'Italia non si è contraddistinta, dicevo, solo per l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali. Sul piano dell'organizzazione degli eventi il nostro Paese ha particolarmente brillato. E questo, ricordiamo, è stato l'anno delle Università di Napoli, dove alla cerimonia finale ho partecipato anch'io degli europei di calcio Under 21. e abbiamo ottenuto un risultato molto significativo. Le ATP Finance di Torino, abbiamo gli europei di nuoto nel 2022, i giochi del Mediterraneo a Taranto, città molto sofferente. Eventi che il Governo ha sostenuto, continuerà a sostenere la consapevolezza che rappresentano le occasioni di crescita, di sviluppo, di potenziamento infrastrutturale, di lavoro, di coesione, anche di visibilità. Perché lo sport ci dona visibilità. Sono delle cartoline che scriviamo con le pagine, con i vostri successi, delle cartoline che ci rendono e attirano l'attenzione di tutto il mondo. E poi non dimentichiamo anche i mondiali di sci alpino di Cortina del 2021, i mondiali di biathlon ad Anter Selva che si svolgeranno a febbraio, la Ryder Cup di golf che si svolgerà a Roma nel 2022, gli europei di calcio del 2020, è stato ricordato anche il Presidente Malagò, parteciperemo, sarà un evento itinerante, ma la partita inaugurale si celebrerà qui nel nostro Stadio Olimpico. L'Italia, e questo veramente ci rende orgogliosi, sta diventando il centro del panorama sportivo mondiale, con merito. Si tratta di un giusto riconoscimento al Paese, il nostro, che vanta una grandissima esperienza, una grandissima capacità organizzativa di altissimo livello. Quindi grazie al CONI, al Presidente Malagò in particolare, a tutte le federazioni, a tutti gli atleti e gli atleti del movimento sportivo per questi risultati. Oggi poi in particolare i protagonisti siete voi, atleti e atleti che sarete poi premiati, tantissimi campioni. Voi ci fate emozionare, ci fate sognare, ci date entusiasmo col vostro impegno, con la vostra dedizione e sono contento anche che il Presidente Malagò ha sottolineato anche quel rilievo etico del vostro impegno, quella componente eticamente irreprensibile che caratterizza anche il vostro impegno. Delle volte ci fate anche soffrire, quando non riuscite noi, siamo di fianco a voi e non riusciamo a conseguire i massimi risultati. Dovrei menzionarvi tanti, tantissimi. Permettetemi di sintetizzare, una particolare menzione va senz'altro quest'anno ai nuotatori, Federica Pellegrini, che vedo qui in prima fila, ma vedo anche Simona Quadarella, vedo anche Gregorio Paltinieri e poi come non menzionare anche il Settebello, che dopo otto anni ha conquistato la vetta, la medaglia più prestigiosa nella palla nuoto. E poi i successi della Nazionale Paralimpica di Nuoto, che sempre a luglio ha completato in vetta col medagliere a Londra, ai Mondiali di Londra. Bebe Vio, la vedo qui in prima fila nella scherma, e tantissimi altri atleti. Portate in alto il nome dell'Italia. Noi vi seguiamo con tanto affetto, con tanta compartecipazione, siumpateia, la chiamavano i greci, e quel sentimento che è qualcosa di più che, come dire, un tifo, è una compartecipazione intima, quindi voi siate sempre sicuri del nostro grande appoggio. E poi, per finire, vorrei ricordare anche il grande lavoro che il Ministro Spatafora sta facendo. Lo sta facendo con grande passione e con grande dedizione e sicuramente saremo con lui al vostro fianco in tutti questi eventi, in questi importanti appuntamenti, alcuni dei quali li ho anche sintetizzati e richiamati, saranno delle occasioni irripetibili per uno sviluppo sostenibile e sociale anche delle nostre città, cari governatori e cari sindaci. Le renderemo attraverso lo sport sempre più accessibili, sempre più inclusive. Potenzieremo, costruiremo nuovi impianti, strutture sportivi, avremo anche un grande, presteremo grandi occhio, ne approfitteremo per migliorare le nostre tante periferie, perché una palestra, una piscina, un campo da tennis sono fattori di aggregazione, di coesione sociale e rappresentano anche il grado di civiltà che un Paese esprime. Ci impegneremo tutti insieme anche per questo. Quindi voi atleti, atleti, grazie, incarnate l'Italia migliore, quell'Italia che viene ammirata nel mondo, un'Italia che ci piace sempre vincente, che ci piace sempre più convincente. Il governo c'è, sarà al vostro fianco, è pronto ad accompagnarvi a realizzare anche progetti futuri e quindi è con questo che vi saluto e vi auguro buone feste a tutti e soprattutto in vista del 2020, anno delle Olimpiadi di Tokyo, vi auguro ancora tantissimi successi. Grazie Presidente Giuseppe Conte.